È arrivato settembre e come ogni anno questo mese si porta con sé la fiera più tradizionale e più celebre del territorio pesarese. La fiera di San Nicola, versione 2023, presenta prima di tutto diverse novità. Dai tre giorni canonici si è passati ai quattro. Si parte sabato 9 e si termina martedì 12 settembre. Giorni in cui circa 550 ambulanti allestiranno le loro bancarelle, esponendo prodotti di ogni genere lungo i 4 chilometri compresi tra Viale Trieste, Viale Trento, Viale Verdi, Viale della Repubblica, Viale Marconi, Via Da Vinci e Via Paterni. Per l'occasione, per raggiungere il lungomare di Pesaro, sono a disposizione dei frequentatori della Kermesse circa 760 posti auto gratuiti tra San Decenzo e il parcheggio di Villa Marina, mentre a pagamento sarà disponibile via Marsala con 40 posti e l'edificio in zona curvone, che conta altri 325 parcheggi. Dall'ampliato spazio del San Decenzo sarà inoltre offerto alla cittadinanza il servizio gratuito della navetta, attiva tutti e quattro i giorni in orari diversi ma con frequenza ogni 15 minuti. Il sabato è prevista dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23. Per la domenica resta invariato il mattino, mentre viene posticipata di mezz'ora la chiusura serale del servizio. Il lunedì e il martedì saranno identici con la sola assistenza pomeridiana dalle 16 alle 23. Se la fiera in tutte le giornate aprirà i battenti alle 8 e 30 del mattino per poi ritirarsi alle 11 di sera, la novità di quest'anno è rappresentata dal rinnovato piazzale d'annunzio. L'area attorno al megacasco di Valentino Rossi vedrà all'inaugurazione della fiera l'esibizione di una serie di spettacoli. Domenica e martedì invece verrà dato spazio ai concerti, mentre il lunedì ampia visibilità al liscio. Spettacolo e intrattenimento avranno il loro posto anche in Piazzale della Libertà, dove per la terza volta consecutiva sarà allestito il mercatino dei bambini.